Vi è mancata questa intro Vi lascio con il video e buona visione Tassi diversi con due dita Un fenomeno incredibile Cioè questo video è vero Questo video non è falso ragazzi E' un fenomeno a editare Poi c'è da capire se è effettivamente sa anche far itare Però comunque è un fenomeno Ma la banana più veloce? Non l'ho mai visto? Oh c'è resetter loss Ma? E niente mi lagga inter 45 giorni dopo La ban... C'è il copyright? No non c'è nemmeno questo il copyright Vai Oh Oh Cosa sta facendo? Eh mi sa che la si gira e parte Mi sa che parte Mi sa che parte E' un fenomeno Sta banana è un fenomeno Cosa sta facendo? Vabbè Ah si è bloccata Mi sa che è uno di vita palese Ah no Aveva 200 L'ha fatto 200 PG La banana più veloce della storia di Fortnite Così subito proprio PG Small Wanted Search Team Vediamo ragazzi Sto ragazzo Seda Team 3 2 Eh no sono passati 4 secondi Attenzione ha zabbagliato a editare Malissimo Un secondo Già ne ha fatto passare 7 Oh C'è il copyright questa canzone C'è il copyright Bella ma la leviamo Vai E' dato da lui Se no cosa ci combina Oh Ok però Oddio Poteva fare una roba Molto più bella Non si capisce nulla Non si capisce nulla Non si capisce nulla Non si capisce nulla Mi dispiace Lemonade Le mode Le mode Infatti la canzone si chiama Le monade Non le mode Vabbè Ma l'ha messo No ma non è lui E' un mobile player Ma non è lui Ma non è lui ragazzi Aveva preso il video da qualcuno online Se sei così forte da mobile Non mi puoi registrare un video così male Poi c'è lo trovo in modo per registrarlo meglio No è impossibile No ma poi c'è pure la La re La reneged rider No Avrebbe già fatto dei video tempo fa No 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 ragazzi Non è lui Non è lui Perché fate i video fake Best laptop player Vediamo questo ragazzo che gioca da portatile 1 minuto e 20 di montage Ha i stessi tasti di qualcuno che non mi ricordo Comunque vediamo come builda Stiamo vedendo un fight ragazzi Ingrazivo Tra l'altro c'ha 0 di ping Con il portatile Quindi comunque Ci so Bello Molto bello Ok Il video è purizzato bene Ok E' un bel video questo ragazzi E' un bel video Contro il pesciolino Ma poi fa anche un sacco di fps Quindi comunque è laptop incredibile Allora tramite le vite va Bello Bellissimo Non ci ho fatto caso quanti punti arena avesse Oh mio dio quanto sono belle le box Ragazzi da quanto tempo non le gioco Ho distrutto il piccolo faceway Fai così Fai così Bello Distrutto Oh Bello E questo video è veramente bello Non me lo aspetta Bello 0 build cosa fai ragazzi Lo uccide uno Ah no niente Mi sa che non ha vinto la partita Spara lì Oh Triple edit Se lo porta a casa GG Fenomeno E' bravo sto ragazzo Potrei Sarebbe interessante far sfidare Questo ragazzo qua Dal laptop contro qualcuno che conosco Oppure magari lo sfido pure io Fate sapere qui sotto me Come ti cosa ne pensate GG Uno contro tre Oh Mio Dio No ma Ma aspetta Non è che ha ucciso me Non credo Ok Prima lo so sento a casa così Guarda dove l'altro White Bello Ce ne è pure l'altro Arriva un altro Full bombati tutti Full bombati tutti Vets E' un piccolo pizza È letteralmente il pizza junior Non lo so Va bene Nella bomba Vets Che babbaro magico Vediamo cosa ci cammina Il che babbaro magico Prima volta che lo vedo Perché è un nome così Non puoi dimenticartelo Gioca da Ma stasera Ma ha un'assenza altissima Ma con che senso ha questo ragazzo Bello No Bello Così se lo porta a casa Clip in arena Ok Mi sa che ha un botto di input lag Sto ragazzo Ok questa qua non era nulla di speciale Come clip Vediamo cosa ci combina qua Quanto lag Ma Sa giocare delle custom O non so cosa sono Ma ci sono un sacco di persone in vita Ah no C'ha lo spazio Queste sono tutte clip in late game Buga Ok Clip in box Vediamo cosa ci combina Oh Bello Free fire L'idea ce l'ha Ma Ma perché Io dico Fatto il montage di un minuto e cinquanta Che è pochissimo come tempo Mettete delle clip dove mi state Non mi è piaciuto Che babbano magico Non mi sei piaciuto Non mi sei piaciuto Zane monta già 11 anni Il video dura 11 minuti Con coincidenze Io non credo Dura troppo fratello Chiron Highlights Zenz G e Dexid Vediamo cosa ci combina Questo ragazzo Che tra l'altro ha editato con film Ma ora è sbagliato Renderizzare Cioè L'immagine di film Ma ora è Vediamo Ok Prima persona che vedo con S e D R Come tasti per editare Per buildare Cosa Ma cosa sta vedendo Poi c'ha un gameplay stra fluido Stra clean Ok Canzone col copyright Quindi va allevata subito Però vediamo cosa ci combina Triple edit Non è male Non è male Ok Oh Oh E' nel muro Bello Vai vediamo vediamo Passiamo clip E' nel muro Sono tre lì dentro Ne porta uno a casa L'altro No niente L'altro ragazzi Palsimamente non l'ha ucciso Olè Così a caldo Si è girato l'iasparato Non l'ha neanche visto Oh è caduto dentro La trappola del topo E l'ha ucciso a caso Sì Comunque builda con S e D R Non so con che Disa Ma con che dito Ma aspetta C'è la Q il piccone S e D R V Ma non Se c'ha S e D Vuol dire che neanche va a destra Sto ragazzi Tira dritto Questo è un treno È un frecciarossa Che tira dritto Vediamo come Bello 18 Ok Bello Ok è un drago È un drago È un drago Molto bravo È di te ragazzi È velocissimo Il tipo era fermo Sleeping box Anche ci combina E lo porta Gata così Così Pure l'altro Bello No scoop Mamma mia Ma poi c'ha sempre lo spasso oro Sto ragazzo Ma ha sempre lo spasso oro Ogni clip ha lo spasso oro Qua viola Ma qua c'era sempre oro L'ha sempre avuto oro Sempre Oh 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 Bellissimo canzone però Purtroppo va levato Perché c'è un coperet Enorme È incredibile Cattivissimo Oh Perché è caricato in montage Dove failate Hai failato tre volte l'edit Uno Due Tre Vabbè Vediamo che ci combina Prefire bello carino Oh Nel muro La porta a casa così Oh Ok vai Oddio questo ragazzo Se l'ha montato da solo il video Bravo Si mette pure a ballare Andava pure a ritmo quella canzone Sta facendo È partito Un fenomeno Ma no Quello si stava curando così all'aperto Ma cosa sta facendo Copriti Chiudi Ti fai qualcosa E si mette pure a ridere Prendo la scala No Cosa c'era Niente No No Ma cosa sta facendo Oh Non sto capendo Che fight sta succedendo Tra questi due ragazzi Ok Così Lo gira così alla fine Con la scala glitchata Questa è l'ultima clip Finisce così il video E allora ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando il caso Non dimenticate di lasciare un bel mi piace Iscrivetevi tutti quanti al canale E ragazzi Domani al 12 e mezza Uscirà un video veramente bellissimo Con mio fratello Quindi mi raccomando Attivate tutti quanti la campanella Che non vi potete assolutamente perdere Il video di domani Noi ci vediamo domani Da ci vediamo È tutto Bella Ciao a tutti